ciao ciao a tutti benvenuti in questa direttina oggi al volo volevo parlarvi delle nuove regole sulla privacy non so se ieri stanotte ieri sera qualcuno di voi ha visto quello che è successo diciamo quel dibattito che c'è stato perché non era un vero e proprio processo comunque tra il senato americano e il buon Zuckerberg ovvero l'hanno messo sotto l'hanno cominciato a disintegrare quindi oggi vorrei parlare di questo intanto aspettiamo se arriva qualcuno aspettiamo 5 minuti intanto io controllo se sono live perché lo sapete che con il mio programmino ho sempre paura di non esserci quindi controllo mi raccomando il primo che arriva mi dica se si sente mi mandi a quel paese mi alzi il medio insomma giusto per farmi un cenno vediamo intanto ieri questo orario ieri è andato molto bene le 7 di sera potrei investirci del tempo ho spostato recentemente prima le facevo un po più verso mezzo ho testato mezzogiorno luna le due e le 19 e le 21 le 19 mi sembra l'orario migliore devo provare di nuovo le 21 vedere cosa succede perché quella delle 21 l'avevo l'avevo praticamente sponsorizzata di più ok allora ci sono ok benissimo ragazzi allora non so se ieri avete visto eh Zuckerberg era sotto assedio nel quel membre del senato che lo stavano massacrando per la questione della privacy bla 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 per farla breve senza andare tanto nel dettaglio ce l'hanno con lui perché praticamente facebook in realtà sarebbe un mezzo che non protegge la privacy delle persone ehm per dire gli continuano a chiedere cosa ne pensi della privacy dei bambini non so se capite l'inglese potete vedervi le registrazioni come proteggi i bambini da questo ok però in realtà io ho un'ipotesi no essendo che era mai facebook è detentore praticamente di tutti i dati possibili immaginabili nel mondo non so se avete visto quanto fattura facebook quanti miliardi fattura guardatevi q4 eh 2017 facebook digitate e guardate un attimino i numeri insomma detiene i dati quindi detiene i dati detiene l'informazione sapete cosa succede vi dico una cosa che eh tanti ancora non non lo sanno ma funziona così un tempo cosa succedeva eh c'erano i giornali e eh poi c'erano le piccole testate i blog piccolini che attingevano dalle informazioni principali dei giornali piuttosto che insomma dai media principali e poi divulgavano le notizie sotto a grappolo succedeva questo in realtà adesso eh succede un altro un'altra cosa ovvero che i giornalisti non sanno più che cazzo dire per fare notizie attingono da facebook quindi facebook è diventato al cima la cima della piramide tutti i media sotto vanno a attingere le notizie lì qualcuno verifica se sono vere qualcun altro non lo fa e da lì poi si smuove la comunicazione quindi in realtà eh capirai che facebook oltre a avere un avere la detenzione dei dati delle persone delle abitudini delle persone anche il controllo delle notizie e tanto per dirne una importantissima anche un sacco di soldi perché come vi dicevo prima andate a vedervi cosa ha fatto q4 facebook una roba pazzesca allora vediamo se si connette qualcuno devo forse devo imparare a annunciarle meglio queste queste dirette devo ancora capire bene come come regolarmi però piano piano man mano in questi giorni provo testo faccio implemento e vedremo cosa succede quindi devo preoccuparmi per queste nuove regole della privacy vi dico la mia ok è vero che adesso ci sarà da fare qualche piccolo cambiamento soprattutto se da facebook fate flipping cioè portate fuori le persone flipping significa prendono le persone da facebook e me le porto sul mio sito web le porto sul mio sito web magari per prendergli i dati per fare le target eccetera quello che fanno normalmente tutte le aziende tutti coloro che lavorano con le inserzioni su facebook cosa faccio qual è lo scopo del social selling farmi vedere farmi notare avere un format un target specifico e poi portarlo fuori dal dal social cioè il mio scopo su facebook è la prima cosa principale far fare un'azione al mio potenziale cliente e portarlo fuori da lì cioè tenere il potenziale cliente su facebook non mi serve un cazzo finché lo scopo del marketing principale è proprio portare fuori le persone cioè devo tirare via le persone fagli fare delle azioni nei miei confronti che man mano incrementano fino a farli comprare portandoli via dai social chiaramente la persona non compra sul social la persona compra sul tuo sito web di persona ti dai soldi viene sotto casa a pagarti insomma ci sono mille modi ma sicuramente oggi non è il modo oggi sia li attiveranno prima o poi pagamenti su facebook però in linea di massima il marketing serve cioè il concetto di marketing è spostare va a fare delle azioni consapevole le persone persuadere a fare queste azioni in modo da spostarli da un posto all'altro quindi in realtà adesso e ci sarà questo problema di privacy che tra l'altro stanno aggiornando insomma poi noi abbiamo anche quella quella merda del garante della privacy che ci ci massacra perché è una merdata italiana perché è un'esagerazione ok abbiamo un'esagerazione di protezione dei dati che poi non serve a niente io vedevo ieri sera in questa diretta quando appunto per chi si è connesso adesso stanotte hanno fatto un confronto senato zakenberg per quanto riguarda la sicurezza dei dati di facebook no le persone che commentavano si lamentavano della pericolosità di facebook e dove lo facevano su facebook cioè io veramente sono ragazzi allibito sono veramente essere fatto non mi capacito di quanto una per le persone possano essere idiote o mi dite intanto se si sente che io sto parlando a vanvera ancora non ho visto niente mettete un po di like condividete sta diretta fatemi vedere ai vostri amici alla vostra mamma alla vostra zia che gli dite questo bel ragazzo è così bravo io tra l'altro piaccio alle zie quindi insomma fate un favore alle vostre zie detto questo allora quindi mi devo preoccupare sì ci sarà da fare qualche cambiamento soprattutto se è un sito web nei cookie insomma ci sarà da rivedere il discorso privacy quindi il discorso mettiti lì ti sto prendendo questi dati attenzione che c'è un pixel attenzione che c'è retargeting il problema grosso è il pixel sapete cos'è il pixel di facebook il pixel di facebook è quella micra cimice quella micro spia che tu metti nel tuo sito web e ti permette di captare le persone che arrivano soprattutto inseguirle sui social network cosa stupida ho un sito web che parla di penne ok cerco dove posso comprare una penna a torino mi compare il tuo sito e poi vado a cazzeggiare su facebook e stranamente trovo solo penne e dico cazzo cosa è successo mi stanno spiando in realtà no è semplicemente un pixel che cosa fa ha visto il tuo interesse ti insegue sul social network si chiama retargeting ok il pixel è questa piccola cimice che fa questo lavoro grazie francesca quindi non mi devo preoccupare più di tanto ragazzi allora facebook è oggi il sistema la banca dati più grossa che esista di dati ok non riusciranno a buttarla giù è ovvio che gli rompano i coglioni non c'è da preoccuparsi ma è ovvio che gli rompano i coglioni questa cosa perché immaginate che c'è al mondo un'agenzia che ha tutti i dati tutta l'informazione un sacco di soldi e che cazzo e non è un governo che devi da dire o questi sono pericolosi andiamo lì sotto soprattutto cerchiamo di trarre vantaggio da questa cosa gli stati ovviamente cercano di trarre un vantaggio perché se trovano questo è un mio parere ma se trovano una debolezza è chiaro che la sfrutteranno al loro vantaggio anche a livello economico ok quindi bisogna massacrarli chiaramente per trarre un vantaggio ma cioè per me è così quindi non c'è nulla adesso oggi da fare perché ancora non ci sono questi cambiamenti di fatto però è quello che si è capito ieri guardando la diretta è che facebook sta prendendo sempre più provvedimenti in primis per l'identità delle persone cioè sarà sempre meno possibile avere account falsi foto false cioè fare questo tipo di lavoro su facebook ma diventerà tipo un mondo vero e proprio certificato piano piano si sta arrivando a quello quindi voi che avete il profilo falso per andare a chattare con l'amante mi sa che tra un po' sarete nei guai lo chiuderanno già adesso ci sono delle task force che vanno a chiudere praticamente gli account falsi cioè così succede quindi per noi che faremo piccoli inserzionisti che faremo inserzione non cambierà molto si tratterà semplicemente di andare adeguare qualcosina sul sito insomma ci sarà sempre di più però questa figura professionale che tutti poi dovremmo pagare che si farà garante del dei dati della privacy delle persone cosa significa questo significa che ci saranno persone che noi andremo a pagare dei consulenti che ci controlleranno questa cosa si faranno si faranno come dire da consulente per risolvere il problema quindi andranno a sistemare le cose adesso c'è già iubenda che lo fa e se hai un sito internet ti consiglio di farlo perché per carità se non hai i cookie a posto io per dirà un sito non sono a posto è rischioso perché rischi delle multe salatissime però va fatto e poi in italia abbiamo detto il garante della della privacy che ci massacra il garante della privacy in italia ci massacra non ci fa fare niente considera che noi non possiamo neanche in america come funziona funziona in maniera molto semplice tu fai degli acquisti con la carta di credito e questi acquisti sono tracciati e quindi io posso comprare delle delle liste ok di persone che per dire hanno appena comprato una penna io posso sapere tutti quelli che hanno comprato una penna oggi e posso vendergli un quaderno perché so che hanno comprato una penna probabilmente scrivono quindi in realtà gli vado a vendere qualcosa questo succede con tutti i prodotti quindi in realtà tu puoi comprare ci sono i broker di liste di broker list tu ti compri le tue liste le paghi poco e hai possibilità di fare la tua pubblicità questo succede in america in italia nein garante della privacy perché l'italiano vuole sapere i cazzi di tutti ma non vuole che si sappiano i suoi ciao francesco ciao tu non puoi sapere quanto io guadagno io essere italiano stupido io non parlare di soldi io odiare quelle che fanno soldi o essere italiane questo è è così italiani non vogliono che si parli di loro non vogliono che si però vogliono sapere i cazzi di tutti quindi in realtà viviamo in questa condizione e d'altronde dobbiamo riuscire a comunque fare marketing lo stesso si può fare abbiamo qualche difficoltà in più comunque in italia essendo che il livello del marketing è veramente rasoterra e fa cagare abbiamo quel vantaggio da quella parte che è tutto da fare chiaramente in america c'è una concorrenza micidiale micidiale io ragazzi ci ho lavorato una cosa mostruosa non avete idea di come si compete quanto costa ovviamente avete capito anche in facebook come funziona l'asta no praticamente facebook dice ciao alessandro facebook dice ok qua ci sono le mie inserzioni le vostre inserzioni scusate qua c'è il mio pubblico chi offre di più per mostrare questa inserzione a questo pubblico più offri e più io dico ok offerto uno bene lui ha offerto uno e mezzo lo faccio farà lui quindi per per mostrare a queste persone costerà uno e mezzo e più persone puntano e più costa quindi in realtà adesso è un momento buono come dico sempre per fare la base sui social fare quella base semplice come dico sempre lo ripeterò tutti i giorni ragazzi fino alla noia e la base del marketing è una cosa semplice dobbiamo essere bravi a mettere in piedi con le quattro cinque cose che ci servono poi per creare un marketing più complicato se non abbiamo quelle quattro cinque cose che funzionano con un budget che girano un target preciso con un format preciso che lavorano bene insomma con un prodotto servizio che ha un'idea ragazzi inutile che ci andiamo a complicare la vita cioè insomma sono cazzate quindi in realtà anche qua il discorso privacy ho visto ieri che erano tutto aiuto ragazzi calma stop ho fatto sta diretta giusto per chiarire le idee non vi preoccupate non è questo preoccupatevi cazzo di fare quelle quattro cose fatte bene che dovete fare qual è il vostro format quanto comunicate state comunicando che state a fa e sapete quindi quello è il discorso mettersi lì fare le cose quelle quattro cose che vanno fatte farle bene io guardate ragazzi romperò talmente tanto il cazzo questa cosa che prima o poi di notte se sapete come l'apprendimento quello quello passivo no ecco di notte vi sveglierete che dovete fare quelle quattro cose devo fare quelle cose quattro bene così succederà quindi io romperò sempre il cazzo e spero che questa cosa serva a qualcosa quindi oggi come state tra l'altro ciao tiziano oggi ho fatto il sondaggio intanto vi posso mettere il link qua aspettate che mi metto per chi non l'avesse fatto a brevia lo faccio in seduta stante vi metto il link del sondaggino perché mi serve per creare nuovi contenuti soprattutto i nuovi corsi quindi in realtà date una compilata sto sondaggio gratuito ma soprattutto andatevi a leggere le domande ma io sapete che vi farei leggere in realtà le risposte ragazzi fanno sganasciare delle risate fanno scassare delle risposte che mi date perché ovviamente noi si lavora siamo qua per lavorare siamo qua per dire cose vere contenuti seri no però in realtà deve essere anche una cosa che divertente la formazione ragazzi non può essere pallosa ok a meno che voi non voglia non siate persone iper pallose già di vostro cercate una cosa iper pallosa non fa per me io cerco di rendere le cose semplici non dico che sono einstein però einstein in realtà cosa diceva rendi semplice un concetto piero angela dice rendi semplice il concetto no ragazzi volete sapere le risposte fanno scassare qualcuno ve la posso leggere in diretta se volete ok allora premettono che c'è qualcuno che è sempre la stessa persona continuo a spaccarmi i coglioni e mi odia e continuo a guardarmi continuo a guardare le dirette continuo a seguirmi continuato e mi odia mi rompe le palle cioè io devo vivere con sé ma non è l'unico c'è c'è così ci sono e più ce ne sono vi ricordate la la regola del centimetro più vi rompono le palle più vi cresce di un centimetro tra un po non so più inciamperò quando cammino comunque vi leggo guarda vi posso leggere le le sue tanto so chi è so benissimo chi è una persona che mi odia allora papà vediamo dovrebbe essere questa qua ecco è un formatore che non una provocazione è ovvio che non piacciono è un formatore che non piace ok fuori il nome no non faccio nomi ci ho litigato per questa cosa guarda è marco un formatore che non piace questo ti piace è mai una cosa è ovvio che perde ragazzi devo spiegarlo no preferisco la formazione classica va bene hai acquistato il mio corso le azze non siamo attenzione a questo perché credo perché no poi ditte che non devo essere bipolare ma come cazzo fai a dire che è un è una cosa che copio sul web se non l'hai comprata cioè c'è ad essere ragazzi c'è ad essere fuori di testa però sta gente così è frustrata c'è i suoi problemi che facciamo noi non gli diamo la possibilità di sfogarsi è bene dai vieni papà marco ti accoglie tra i suoi haters su tanto io andrò in paradiso con tanti centimetri in più perché la sapete la legge ma poi è andata avanti cioè mi dice ovviamente non gli piace i miei diretti però le guarda se è interessato a vendere sui social sì non ho budget non ho costanza ecco questa mi fa ridere cosa non dovrebbe mancare in un'accademy completa no in realtà e volevo capire se ci fosse qualcosa ma giusto per aiutare è una delle cose che poi vi spiegherò meglio nel tempo che da fare comunque sapere cioè continuare a interagire no e lei ha scritto cosa non dovrebbe mancare in un'accademy attenzione l'umiltà di chi insegna ok l'umiltà come sia adesso io non sono umile secondo voi no che non sono umile ragazzi non sono umile per niente ma provate a ad avere un problema su cui io devo aiutarvi a risolverlo lì io vedo l'umiltà di metterarsi su le maniche così aiutarvi aiutare le persone quello significa essere umile se il mio modo di comunicare non ti piace ragazzi non seguitemi cosa vi devo dire io sono così sono fatto così proprio da quando sono nato sono così sono logorroico sono ho questo modo di fare che sembro prepotente ragazzi sempre ma poi c'è un centinaia di persone che lo sanno quando poi serve dare una mano è lì che si vedono le persone le persone nel momento del bisogno che le vedi se sono degli dei falsi dei vermi oppure sono delle persone vere che ti aiutano non mi venire a dire che fare i discorsi di umiltà che poi offendi su cioè vai a offendere su sulle pagine facebook ragazzi ridicole vabbè e poi per il resto è divertente ho trovato delle risposte veramente tolta questa che tanto successo sappiamo tutto ho trovato delle risposte molto interessanti no 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 ok praticamente sul corso del razzo sono contento perché sono mi spiace che ci siano delle persone che se lo sono perso però ragazzi per andare per averlo in promo adesso è l'ho messo a 147 euro mi sembra per averlo in promo vi svelo un trucco andate su marcodoria.com ok andate su risorse gratuite scaricate il corso gratuito vi arriverà la promo ok quindi a parte quello però le dirette piacciono tutti sono interessati ai contenuti social selling ecco uno dei più grossi problemi ve lo posso dire quale grosso prima che hai col social selling è il più grosso il 42 per cento delle persone ho troppe informazioni in testa e non riesco a creare una strategia che funzioni questa è una di quelle cose che che alle persone di fatti io avevo io ho captato questa cosa del mercato tempo fa ci ho fatto sopra il mio posizionamento ovvero quello di toglierti la merda dalla testa ok cioè se quando hai l'acqua nell'orecchio devi fare così ecco io vi aiuto da dietro a fare quel lavoro per fare uscire un po' di merda ok tiziano dice cioè si vedono al cesso al momento del bisogno intendi le mie dirette comunque si è se le mie dirette vengono viste accessi sono contento perché vuol dire che sfruttate bene il vostro tempo ciao zack edu ok leggiamo qualche altra cosa del sondaggio che mi è piaciuta allora io ho chiesto se qualcuno avesse una frustrazione particolare riguardo il social selling che è questa cosa che io sto portando avanti non è molto sulla bocca delle persone in realtà non lo dice nessuno sono un po il primo a parlare di social selling che è praticamente la stessa coce è marketing il marketing è stato inventato migliaia di anni fa quindi nessuno si è inventato nulla però oggi ci sono delle dinamiche che partono dai social con per captare le persone che comunque sono differenti quindi in realtà io ci ho creato un percorso dietro si chiama appunto social selling le frustrazioni riguardo allora la maggior parte non ne ha devo dire no il 26 per cento però in realtà non è vero perché il 26 per cento è praticamente quelli che non l'hanno però il resto c'è tutto un 5 per cento di persone che ha frustrazioni come per dire mi cambiano gli algoritmi divento scemo oppure sempre non ho molto tempo devo capire le priorità oppure qualcuno mi dice voglio diventare un social seller ma in questo momento non ho risorse per potermi permettere una formazione ragazzi di quello abbiamo parlato ieri e i dindiri dovete utilizzate la tecnica della scarpa se qualcuno non se la ricorda me lo chiede che gliela spiego ok e qualcuno ha bisogno di una badante però va bene ok benissimo allora ho un altro problema la mancanza di tempo però ho scoperto un metodo lo chiamo l'isola della concentrazione lo conosco non lo conosco francesco non so cosa sia dillo dicelo ah no gli amici quelli che aiutano ok un attimo ho capito che mi stanno cercando fatemi fare una telefonata la faccio in diretta tra l'altro mi hanno anche suonato qui vediamo se mi rispondo ehi mi hai chiamato e io sono in diretta adesso se vuoi mi vedi su facebook quindi si veloce dimmi sono proprio in diretta mentre mi stanno guardando mentre parlo con te e 5 minuti 5 di orologio ok va benissimo scusate sono appunto quelli sono gli amici questi qua ok che ti aiutano va bene leggiamo ancora qualche altra domanda del sondaggio ok allora qua ecco questa mi è piaciuta quanto pensi sia giusto investire informazione all'anno in realtà la maggior parte delle persone punta investire da 1.500 euro ok pensavo che ci fosse un'altra percezione in realtà non è detto che poi queste persone se lo possano permettere ok però in realtà è giusto investire informazione da i 1.500 euro in realtà è quello che dico sempre di prendere il 5 10 per cento del fatturato e metterlo in formazione ragazzi dovete fare così cioè deve essere già nella vostra testa perché la formazione oltre a darvi quelle nozioni che vi servono per progredire ok per essere aggiornati pensate solo a questa cosa della privacy ok è ovvio che se non state lì ascoltare a seguire qualcuno che vi dica come fare ve la perdete non va bene voi dovete risparmiare tempo ci vanno delle persone che prendono il mucchio di informazioni che oggi abbiamo siamo pieni e le scremano cioè deve andare a togliere gli strati di roba che non servono a niente il succo è quello che ci interessa quello che dobbiamo avere ecco il mio lavoro è quello di semplificare e togliere la merda ok quella che così ricordate quindi in realtà questa è la cosa la seconda cosa della formazione che è molto importante ragazzi cioè è proprio una questione di di mindset è che se tu ti formi non lo dico perché avendo formazione ragazzi potete anche non ascoltarmi più ma in realtà è vera quindi lo dico nei miei interessi ma comunque la verità ragazzi è che chi si forma rimane sul pezzo cioè se tu vuoi stare sul pezzo ok devi seguire formazione ma perché c'è tutto un microcosmo di persone che ci sono dietro insomma e c'è un c'è un mondo dietro la formazione quindi è più sei dentro queste cose chiaramente fatto le cose in maniera ordinate chiaro che se salti di palo in frasca non va bene però quello che dico anche attenzione non vorrei contraddirmi saltare di palo in frasca significa che non applichi nulla devi applicare e sentire anche altre versioni non si va al cinema a guardare solo un regista solo un attore ok la vita è fatta di più orizzonti ok aprite toglietevi paraocchi ma mi raccomando però dovete ecco la cosa difficile è che tanti non riescono a capire poi che comunque bisogna fare 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 avere una visione grande ok allora vediamo qua cosa dice un altro problema nostro la mancanza di tempo però scoperto ma no ah sì quello che dicevi prima sorry detto in parole brevi le isole delle concentrazioni sono periodi di tempo in cui non devi essere interrotto niente nessuno per motivo di ricarte solo i tuoi programmi tene due due tre settimane ah ok allora sì io in realtà di mio ho quando ho fatto i corsi copia tutta quella roba lì ho sempre detto ai miei studenti se avete fatto il mio corso copia lo sapete di togliere tutte le notifiche del cazzo di quando lavorate prendervi dei periodi di lavoro così po 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 anche per studiare c'è il momento di eh formarsi c'è il momento di ascoltare c'è il momento di scambiare opinioni ma c'è comunque c'è il momento di applicare io eh quando scrivo che sono sotto a scrivere faccio tipo il pomo uso il pomodoro timer cioè che poi una fesseria è solo un modo per rimanere sul pezzo mh cioè non è una cosa che ti cambia la vita che è magica mistica è semplicemente un modo che ho per stare sul pezzo o il timer faccio una pausa ogni tanto è lì è lì trotti perché comunque ragazzi produrre è noioso è così è noioso è noioso non si vive di di sprint ma di maratone cioè più tu riuscirai a fare sempre le stesse cose cioè guardate adesso sto facendo queste dirette che hanno uno scopo ben preciso lo scopo ben preciso è fare un processo di educazione a chi mi segue creare un pattern appunto nella testa di chi mi segue dire ok adesso passiamo da seguire il materiale gratuito a prendere quello a pagamento e poi successivamente salire ok c'è proprio la scalinata del cliente perché poi ci sono i miei corsi a pagamento a basso costo che utilizzo inizialmente ma poi sale sale perché il mio prossimo corso l'academy costrà 1000 euro e poi chi vuole l'academy con la mia consulenza 2000 questo è io punterò lì quindi in realtà questo è come funziona e come dovrebbe funzionare perché ho più margine riesco a investire di più riesco a far vedere queste dirette a più persone insomma tutto un giro quindi così funziona e però è bisogna produrre c'è fatto un live tutte le sere avere gli argomenti si è chiaro ragazzi poi un'altra cosa che vorrei dire io non sono nato imparato faccio questo lavoro da vent'anni e ho avuto ho i miei problemi cioè nel senso quando produco arriva al punto che magari devo devo la nozione nuova devo imparare le cose nuove e chiaramente questa scioltezza che vedete di fronte al microfono non è arrivata oggi cioè non sono neanche in atto così scusate e me la sono fatta parlando mettendo lì parlando 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 ascoltando vedendo quello che è facendo sondaggi rompendomi le palle vendendo controvendendo discutendo avendo soci non avendo soci litigando non litigando facendo amicizie facendo pr insomma tutta una serie di una scatola un bagaglio di mie esperienze che mi ha portato a essere magari così più sciolto di quello ma su quello che parlo ovviamente se mi mettessi qui a parlare di poker online ragazzi non so un cazzo cioè non so neanche come si faccia giocare forse forse ho giocato una volta ma sono un blocco quindi bene ragazzi per concludere non vi preoccupate delle stronzate facebook qua facebook là bisogna capire che il meccanismo è potente facebook è potentissimo detiene tutto quello che potete immaginare nella vostra vita c'è la facebook quindi c'ha i dati c'ha i soldi c'ha i media la comunicazione in mano facebook ragazzi è così ma non vi preoccupate per questo private questi sono dettagli di complicazioni che arrivano dopo come dirò sempre prendete le cose semplici e fatele come diceva francesco prima non abbiamo tempo bisogna cercare quella è una delle cose semplici prenditi il tuo tempo e fai le cose qua adesso sto preparando la l'academy ok non è una cosa che riguarda adesso sarà lanciata a maggio dopo tutto quanto però per darvi un anteprima io gli farò vedere proprio tutto il processo perché creerò un business nuovo lo creerò proprio facendo vedere come si fa e quello sarà l'academy cioè faccio vedere da zero cioè step dopo step cioè questo 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 quest'altro questo questo quest'altro quello sarà l'academy quindi se non avete ancora fatto scaricatevi il mio corso gratuito ok date su marcodoria.com andate su risorse gratuite scaricatevi il video corso gratuito subito c'è la prom per comprare le video le ads non servono un razzo quello che vi serve per capire come fare un format che spacca che ha ctr le 15 per cento c'è il caso studio e una volta che vi siete comprati quello ragazzi al prezzo delle patate vi arriva anche la bibbia delle ads guardate che bello è proprio bello e poi da lì adesso poi ci sarà il prossimo webinar che tra un po' annuncio con calma e tutto quanto che si chiamerà face fast è proprio un step by step come come creare l'account come fare quelle quattro cose che servono per ottenere risultati con facebook ma tecnicamente pigia qua pigia l'afri questo senza perdersi in corsi di 20 ore e poi da lì c'è quello di instagram stessa cosa che annuncerò comunque non vi preoccupate seguite la diretta perché tanto vi dirò tutto avrete sempre la possibilità di entrare soprattutto di rientrare perché quando lancio una promo ragazzi dovete c'ho gli ospiti qua fuori arrivo dovete quando metto una prova prenderla subito perché poi dopo sfugge e alzo i prezzi e lo sapete che poi succede così quindi ragazzi vi saluto buonasera ci vediamo domani che ho una cosa fighissima da dirvi mi raccomando le cose semplici da fare e via la merda dalla testa ciao ciao e buona serata